Vorrei iniziare spendendo due minuti, non annoiandovi, ma raccontandovi un po' qualcosa della mia infanzia. Io quando ero molto giovane avevo una tendenza naturale a uscire dal corpo. Questa cosa ho imparato a mie spese a non raccontarla, perché mi è costato più di un anno di psicanalisi e ho capito poi che semplicemente certe cose andavano condivise con chi, diciamo, poteva riceverle. E in quello stesso periodo ero molto giovane, ero 12, 13, 14 anni, mi succedeva spesso di vedere le aure intorno alle persone, questa cosa meravigliosa. Che poi solo crescendo mi sono reso conto che più ci si sforzava e meno accadeva questo, quindi non posso che non usare questo termine dono, veramente. E mi ha servito tantissimo perché mi ha permesso di vedere delle cose, diciamo così, che non era un'opinione, ma qualcosa che in qualche modo osservavo direttamente, mi permetto di dire, cosciente del fatto che posso usare un linguaggio che viene condiviso. Crescendo, come vedete anche adesso, sono diventato un po' psicopatico. Cioè, che cosa è successo crescendo? Proprio imparando a tenermi certe cose per me, io sono cresciuto, proprio come dottor Jekyll e mister Hyde, su due livelli diversi. Uno, mi è sempre piaciuto studiare e poi mi sono iscritto a fisica, ho amato la fisica teorica, la meccanica quantistica e tutto questo, però mi piaceva proprio studiare a tutto tondo al liceo, insomma. Però dall'altra, spesso la notte svolazzavo, vivevo stati interiori, incontravo esseri che solo da grandicello ho iniziato a capire non essere, tra virgolette, passatemi il termine, normale. Che cosa è successo? Io allo stesso tempo amavo le arti marziali e mi sono reso conto solo da grande che quello che era, ha lasciato il corpo anni fa, il mio maestro di Kung Fu, era in realtà il mio maestro di vita, ma io a 10, 11, 12 anni non lo capivo. E questo essere, questo grande essere che ora capisco di più, mi faccia passare per esempio 4 ore a notte seduto davanti a una candela e che i miei genitori non lo sapessero perché si sarebbero preoccupati. Quindi ho imparato un po' a nascondere delle cose che crescendo soltanto mi hanno fatto trovare un po' psicopatico e mi hanno fatto trovare davanti a un certo punto a un lavoro diciamo così di riunificazione di questo che sta ancora accadendo in me e che quindi lo condivido perché un pochino l'ho superato e mi permetto di condividerlo come un fatto senza dargli troppa importanza. Allo stesso tempo questo grande essere che viveva in un corpo chiamato Fabio Romano mi portò in India e siamo stati 5 settimane, quasi 6, in una scuola misterica iniziatica nel centro dell'India dove anche ho appreso delle pratiche che hanno potenziato diciamo così queste capacità di svolazzare, di vedere. Ma solo in futuro, la faccio molto breve perché abbiamo poco tempo, so che posso esprimermi così, ho capito che dovevo cambiare direzione. Cioè mi sono reso conto che stavo coltivando la via diciamo così della magia e non la via della mistica. Diciamo, uso questo termine, dell'illuminazione e questo lo devo a due grandi persone. Uno a questo grande maestro di Kung Fu che è stato il mio maestro di vita in realtà e un altro a un grandissimo essere che forse tanti di voi conosceranno che è padre Mariano Ballester. Che cosa mi è successo praticamente? Mi è successo che tramite quest'altro grande essere, padre Mariano Ballester, io ho iniziato ad accedere a una meditazione che mi insegnava a non attaccarmi ai fenomeni e neanche a cercarli. Anni prima, la faccio un po' breve, sono stato misteriosamente perché so che il caso non esiste, iniziato da un monaco, tra virgolette, senza nessuna aspettativa in India, al Kriya Yoga, quindi a Yogananda e a tutto questo mondo che amo profondamente e che solo crescendo ho capito che mentre Yogananda raccontava di fenomeni incredibili, allo stesso tempo indicava chiaramente che la cosa importante era dietro ai fenomeni. Quindi diciamo io ho vissuto un periodo della vita in cui ho capitolato e ho, anche prima ho capitolato, ho capito che in realtà stavo seguendo una via che non era per me e che aveva più che altro a che fare con cose che io dovevo lasciare più che sviluppare. Non so spiegarlo meglio ma spero che potrete un po' capire quello che intendo. Mentre capivo tutto questo mi succedeva anche di vivere degli stati profondi di coscienza che non avevano tanto a che fare con questi fenomeni, uso il termine sbagliato, paranormali, che sono solo parte di una normalità che non è ancora normale e che penso che un domani saranno spiegati. Tuttavia mi accorsi che gli stati profondi di coscienza avvenivano quando mi attaccavo meno, quando ricercavo meno la capacità di vedere i colori intorno alle persone, di ricordare cose di un lontano passato, la faccio un po' breve, di uscire dal corpo e le prime volte mi ricordo stupivo agli amici raccontando loro cosa avevo visto di loro da lontano, cercando un po' di fare sciolo, ammetto, perché ho ancora un ego ma da ragazzo ho un ego molto più grande e questo nutriva molto me stesso, penso che possiamo trascendere solo ciò che abbiamo conosciuto. Io l'ego lo conosco benissimo cari amici perché so benissimo quanto sia bello stupire gli altri con fenomeni paranormali così. Però allo stesso tempo la meditazione, Fabio Romano, padre Ballester, mi indicavano chiaramente che tutto questo deve essere vissuto come un fuoco d'artificio ma senza dargli grande importanza e che invece era importante qualcos'altro, andare a una realtà trascendentale, oltre le forme, oltre il tempo. La cosa incredibile è che tutto questo viveva parallelamente alla fisica teorica, quindi alla meccanica quantistica, alla struttura della materia, a esami piuttosto impegnativi perché riguardano anche una matematica molto avanzata, insomma bisognava passare parecchie ore a studiare se si voleva prendere la magistrale in fisica, diciamo. Io pensavo nella vita che erai fatto ricercatore e la carriera accademica come assistente, avevo anche un professore che mi aveva fatto intendere che si sarebbe potuto ma poi negli anni le crisi, è cambiato tutto, eccetera. E quindi mi sono trovato a essere anziché un ricercatore scientifico con la passione per la ricerca spirituale, mi sono trovato, mio malgrado, perché io non l'avrei mai pensato, a occuparmi di risveglio, diciamo così, della coscienza e non a occuparmi invece di scienza. La domanda è, può la fisica arrivare a comprendere che cosa è la coscienza e non l'effetto della coscienza? Diciamo così. È possibile che questa è una domanda che ci poniamo, noi cerchiamo di vedere per esempio l'effetto sulla coscienza e so che magari avete parlato di doppia fenditura e cose del genere che se ne parla tantissimo, no? Ma a monte proprio che cosa è la coscienza? L'intuizione mi piace tantissimo perché è qualcosa, primo, che riguarda tutti i geni. Se vi piace un artista della musica, della pittura, se vi piace uno scienziato, se vi piace un bravo cuoco, se vi piace un grande giocatore di golf, in qualsiasi campo voi andiate a vedere, l'intuizione è quello che rende una persona veramente geniale, veramente, diciamo così, speciale. Quindi in questo termine l'intuizione non è qualcosa che riguarda i cosiddetti più bravi, perché spesso i geni non erano tanto bravi a scuola. Einstein, Mozart, erano spesso bocciati nelle varie prove di scuola. Ma che cos'è l'intuizione? Com'è possibile che possiamo capire una cosa o intuire una cosa? La domanda è, possiamo potenziare il processo intuitivo a prescindere da quello che credo? Che io creda al Buddha, a Yogananda, al Lao Tse, al Cristo, proprio come un processo scientifico. E la mia domanda è, cosa, se tutti noi diventiamo più intuitivi, peggiorerà nel mondo? Non c'è la risposta a pagina 16, ce lo stiamo chiedendo, no? Ecco, in realtà, già che abbiamo poco tempo non voglio lasciare troppo spazio al silenzio di porsi domande, sebbene sia importante, in realtà se andiamo in profondità in questa domanda, troveremo che nulla sarà peggiorato. Immaginate di avere ragazzi più intuitivi, non sto parlando per forza più intuitivi in matematica, in letteratura, può essere anche l'intuizione di come cucinare meglio una crostata, o di come tirare a golf un tiro speciale, no? Qual è l'essenza dell'intuizione? Vedete, cari amici, in quanto fisico mi rendo conto che spesso l'intuizione è associata alla risoluzione di un problema. C'è un grande fisico, troppo spesso poco citato, secondo me, ed era Ettore Majorana. Ettore Majorana, uno degli assistenti di Enrico Fermi in via Panisperna, aveva un'intuizione straordinaria, in pratica lui a volte trovava la soluzione giusta senza sapere come l'aveva trovata. E questa cosa faceva incavolare Fermi, che era anche un grande genio, ma che era più un genio sul filone diciamo così logico e razionale. Perché Majorana prima trovava risposta e poi gli ci voleva un sacco di tempo per capire come l'aveva trovata, quella risposta che poi si rivelava essere giusta. Ok? Voi direte, ma perché ci parli di intuizione a me che non mi interessa la scienza oppure mi interessa un livello più amatoriale? Ecco, vorrei scoprirlo insieme. Vedete, se io inizio a intuire che cosa succede a mio figlio che ha 200 chilometri da qui, se io inizio a intuire la soluzione di un problema matematico, se io inizio a intuire delle cose che per esempio sono il senso profondo di una poesia, penso per esempio all'infinito di Giacomo Leopardi, o a sempre amato la Divina Commedia, faccio anche degli incontri sull'esoterismo di tante, così amatoriale mi piace molto. Qual è il senso dell'educazione nella nostra scuola? Perché mandiamo i nostri figli a scuola? In realtà non li mandiamo per insegnare loro un sacco di informazioni, perché presto ce l'avremo non solo sul telefono, ma proprio in the chip anche dentro di noi. Ma che cosa una macchina non può avere? L'intuizione. Cioè in una parola la macchina può ripetere meglio di noi le cose che già conosciamo, ma non può creare qualcosa che non conosciamo ancora. Allora, la faccio molto velocemente, la sfida tecnologica qual è? Sapete che ci sono dei robot che tra un po' opereranno al posto dei medici, e la cosa che fa molto paura, ora lascio perdere il piano economico perché spesso i medici prendono troppi soldi per un'operazione, scusate se ci sono dei chirurghi qua presenti, non si offendano, è la verità. E' che questi robot saranno molto più precisi del braccio umano, nel tagliare, nel riciciatrizzare magari con laser, con tecnologie che noi non immaginiamo neanche. Queste tecnologie arriveranno molto velocemente, saranno molto più potenti dei telefoni già potenti che abbiamo in tasca. Pensate un robot che opera, all'inizio avremo tutti paura, ma dopo qualche anno ci fideremo più del robot e della persona. Il robot non è ubriaco? Il robot non ha litigato ieri con la moglie? Il robot non ha l'incidente ieri del figlio e motorino? Oggi sono preoccupato, non riesco a operare al mio massimo. I medici non ce le dicono queste cose, ma sono umani. Quando inizieremo a sentire, a ricevere delle operazioni fatte da robot, noi piano piano ci fideremo più del robot. Vi sembra assurdo? Ma se io vi dicessi che vi porto in spalla da qui a una acqua a fianco, voi preferireste andarci con la macchina. Ma se fossimo nell'ottocento, voi preferireste venirci in spalla mia? Perché non vi fidereste delle macchine? È così. Oggi però è naturale andarci in macchina e non vi fidereste di una persona che vi porta. Può cadere, può essere ubriaca, chissà dove mi porta. Mi seguite? Quindi per noi oggi è naturale fidarci più di un medico che ci opera che di un robot, ma tra qualche anno sarà naturale fidarci più della macchina che della persona. Ma allora che cosa facciamo qui? Se le macchine faranno al posto nostro tutte le cose che già sappiamo fare, la nostra energia, la nostra attenzione dovrà andare nello scoprire, nell'intuire cose nuove. E non importa se si tratterà di intuire come raccogliere meglio le olive, di intuire come fare meglio un ciambellone, di intuire come fare meglio il riciclo dell'immondizia, non per forza è un teorema matematico, no? Ma di intuire cose nuove. Perché penso che non sia tutto qui? Attenzione bene, e qui mi riallaccio al grandissimo maestro Paramansa Yogananda. Qual è il senso profondo dell'intuizione? Io mando mio figlio a scuola in realtà per sviluppare l'intuito, non per ingozzarsi di informazioni che due anni dopo avrà dimenticato. Quando è nato Manzoni? Chi se ne frega? È molto più importante che attraverso la letteratura, per esempio Manzoni sviluppi un cuore sensibile, no? Che è il vero senso della poesia, non quando è nato Manzoni, c'è scritto su Wikipedia. Recita quella poesia a memoria, chi di voi è un po' più grandicello come me o più di me si ricorderà questa atroce formazione scolastica che è sbagliata perché addirittura intoppa l'intuito, riempendo troppo la memoria. Oggi diremo la RAM. Ok? In pratica sappiamo molto poco del cervello, ma sappiamo che il circuito intuitivo, questo miracolo, è diverso dal circuito razionale, ed è diverso dal circuito mnemonico. Ma quello che sappiamo è che se una mente si riempie troppo di informazioni è meno intuitiva. Voi lo sapete perché se avete il telefono pieno di foto è più lento. Se voi avete il computer, l'hard disk pieno di roba, il computer è più lento, non è più veloce, vero? Beh, un po' è così per il cervello. Ci sono persone che hanno infilato elettrodi in testa a demonaci in meditazione, è molto interessante, no? La faccio breve perché abbiamo poco tempo. Ma hanno scoperto che una mente più quieta, più vuota, meno attaccata alle informazioni, attenzione anche alle informazioni cosiddette spirituali, una mente più quieta, più vuota, meno attaccata al contenuto della mente di qualsiasi tipo essa sia, dal ciambellone al sutra del Buddha, intendo recitato mnemonicamente, più è quieta, meno è attaccata alle cose e più è intuitiva. Ma, e qui la smetto di parlare e vi faccio vedere il video, quando un ragazzo trova intuitivamente l'equazione, la soluzione di un'equazione matematica, come faceva Ettore Majorana e vi dicevo, qual è il senso dell'intuizione oltre a quello di risolvere l'equazione matematica? Vedete, piano piano, quando l'intuito lo sviluppo, per esempio tramite la matematica o tramite la poesia, o studiando gli accadimenti della storia nell'arco dei secoli, a che cosa mi serve l'intuito? Se lo tiro fuori dalla matematica, se lo tiro fuori dalla cucina originale, se lo tiro fuori da un modo creativo di giocare a golf? Espansione. Espansione. Fabio. Fabio, espansione è una cosa giusta, no? E parte dell'espansione, attenzione bene, è intuire chi sono io. Allora, se io ho una buona intuizione matematica, ma poi vivo infelice, genero sofferenza, ho un corpo di dolore enorme. La mia intuizione a che serve? A risolvere dei problemi matematici, no? Ma è possibile che i ragazzi a scuola domani saranno invitati a sviluppare l'intuizione per arrivare a intuire che motivo hanno di essere qui. Perché sono nato da questi genitori? Perché è proprio lei mia mamma? O perché è proprio lei mia zia? O perché è proprio lui mio figlio? No? Se una persona non crede questo mentalmente, ma intuisce questo profondamente, secondo voi sarà più felice o meno felice? Esattamente. E se una persona è più felice, espanderà felicità intorno a sé. Quindi in una parola, l'essenza dell'intuizione è generare pace, gioia, leggerezza nel mondo. È aiutare gli altri a propria volta a sviluppare intuizione anziché credere cercamente alle mie intuizioni. Che è quello che a volte è accaduto nelle religioni. Dei profeti intuiscono qualcosa, tu ce devi credere. Non ne offendete, perché questo serviva, cari amici, serviva in un'epoca in cui eravamo un po' più coscienza, come coscienza chiusa, no? Oggi che ci stiamo aprendo, tutto questo deve essere superato. La stessa religione, lo dice il grande Paramansa Yogananda, c'è un libro meraviglioso che si chiama L'Eterna Circa dell'Uomo, deve essere sviluppata per intuire la verità. Lo possiamo chiamare Dio, preferisco evitare questo termine perché è spesso un po' frainteso. Diciamo per intuire perché sono qui. Possibile che sono nato per comprare una casa, per pagare un mutuo, per risolvere equazioni matematiche se faccio scienza. È tutta qui la mia vita, no? Ma se non lo intuisci, per te sarà tutta qui. O tutt'al più dovrai credere che la tua vita sarà altrove, magari da dopo morto, eccetera. Quindi, in una parola, se noi sviluppiamo le capacità intuitive, sviluppiamo la nostra capacità dell'essere nel presente, di cui oggi parlerò un pochino perché a mio avviso l'essere nel presente è completamente frainteso. E mi permetterò, col limite del linguaggio, di cercare di trasmettere un senso, a mio avviso, più profondo del senso del qui ed ora, che non è un punto sull'asse del tempo. Questo punto, questo momento, no. Rutherford è l'allievo di un grande premio Nobel, a sua volta che è Thomson, oggi ci chiamiamo il televisore con sto nome. Thomson scoprì l'elettrone, ma Thomson scoprendo l'elettrone capì che l'elettrone non era tutto lì, ma che doveva far parte di qualcos'altro che era l'atomo. La faccio un po' breve perché anche l'ho raccontato, un mio amico ha già messo un video tra l'altro online. Thomson propose il cosiddetto modello a panettoneo, questo modello prevedeva che ci fossero cariche positive e negative distribuite uniformemente a panettone, perché le cariche sono un po' come i candidi dentro al panettone quello classico. E Rutherford, un giovane genio, inizia a lavorare per il suo mega, super, maestro professore, credendo fermamente al modello atomico a panettone. E per capire com'è fatto, prende delle particelle e gliele tira addosso, queste particelle sono le particelle alfa. però, come dice il mio professore, che cosa accadeva? Era come mitragliare la schiuma da barba, la dico così, e che ogni tanto un proiettile tornasse indietro rimbalzando sulla schiuma da barba. Com'era possibile questo? Era possibile perché una particella, mi sembra una su circa 10.000, su 9.000, urtava contro il nucleo massivo e tornava indietro. Allora Rutherford scoprì, si accorse, che non era fatto a panettone l'atomo, ma era fatto tipo sistema planetario, quindi con il sole, il nucleo al centro e gli elettroni che vi ruotavano intorno. Questa cosa, dico sempre, quando viene raccontata a scuola non stupisce più, ma è una cosa meravigliosa, perché all'epoca si stava scoprendo che la più grande cosa che si conosceva, siamo ai primi del Novecento, il sistema solare era la più grande cosa che si conosceva, era uguale alla più grande cosa che si conosceva, i primi del Novecento l'atomo si pensava fosse proprio atomos, indivisibile dal greco. Quindi questa cosa fece passare notti in sogno a Rutherford. Ma perché ve ne parlo? Perché la cosa sconvolgente, Rutherford pensava di sbagliare le misure, l'ha ripetuto tantissime volte, era in dubbio, siamo ancora nella fisica classica, proprio il rapporto che quantizzerà l'atomo, eccetera, ma non ne voglio parlare adesso, sebbene sia interessantissimo, l'ho parlato anche in un'altra sede e non voglio ripetermi. Perché ve ne voglio parlare oggi pomeriggio? Perché la cosa che venne fuori, cari amici, è che praticamente la materia, questo tavolo, è praticamente tutto vuoto, è una cosa che tutti voi avete sentito, e non so se sapete che è il 99,987% vuoto, lo ripeto, 99,987% che facilmente si approssima a 99,99%. Questo vuol dire che il 99,99% della materia, il corpo, la sedia sulla quale si vedete, il pavimento, il tavolo, è vuoto. Attenzione, che cosa vuol dire vuoto? Perché a volte lo diamo un po' per scontato, nello spazio tra l'elettrone e il nucleo non c'è l'aria, ovviamente, perché ci sarebbero degli atomi di aria, no? Qual è la cosa incredibile? È che la fisica, cari amici, ho fatto vedere questo esperimento perché vorrei farvelo notare, può misurare non il vuoto, cioè le particelle, quando Rutherford chiedeva chi sei tu, come era Manamashi, tirando delle particelle alfa addosso agli atomi, le particelle gli tornavano indietro solo rimbalzando su qualcosa. Se noi illuminiamo con dei fotoni, con degli esperimenti di fisica anche più moderni, se noi facciamo delle misure, cercate di seguirmi, noi misuriamo solo qualcosa, non misuriamo il vuoto. Sapete come funziona un radar o chi di voi va in barca, visto che avete un mare bellissimo qui vicino, l'ecoscandaglio, no? L'ecoscandaglio tira delle onde che rimbalzano e tornano su. In base alla velocità di andata e ritorno, con un calcoletto, con la densità dell'acqua, si scopre a che profondità c'è stato il rimbalzo. Ma se le onde non trovano niente su cui rimbalzare, vi dirà che non legge. Perché vi faccio un esempio quasi banale? Perché come l'ecoscandaglio per chi ha una barca, o come radar, noi possiamo misurare solo delle cose concrete, non il vuoto. Non so se mi seguite. Un'onda, l'ecoscandaglio, rimbalza sul fondo. I nostri metodi di misura, anche più recenti, non solo dei primi del Novecento, rimbalzano, tra l'altro perturbandoli, ma lasciamo perdere, sugli elettroni, sui nuclei, su piccolissime particelle della fisica, diciamo, attuale che è interessantissima, ma non sul vuoto assoluto. Questo vuol dire che attualmente la fisica può occuparsi solo di ciò che la materia è e non del vuoto misterioso che vi è dentro e che compone la gran parte della materia stessa. La domanda successiva. Se la fisica si accorge che questo tavolo è fatto di atomi, ma per una piccolissima parte di atomi, 0,01, cioè di materia, e non può dire niente sul resto. Questo vuol dire che la fisica per il 99,99% non sa che cosa è questo tavolo. Quando lo intuì a scuola, pensai all'università di aver sbagliato facoltà. Sto studiando lo 0,001, ma chi se ne frega. Sto scherzando, ma c'è del vero. Questo vuol dire che noi, cari amici, con le nostre misure, con le nostre cose, possiamo solo capire lo 0,001 di ciò che è la materia. Ora faccio un salto pindalico, e non me ne vogliano a male, chi di voi è anche uno scienziato, chi vede il video, eccetera. È possibile che quel vuoto sia la coscienza? Ecco perché non può essere misurata. Non sto dicendo che è così, mi sto solo ponendo delle domande, e nel pormele passerò dalla fisica moderna agli antichi Veda, e vi leggerò una piccola parte del Kena Veda. Questo testo sacro, antico, secondo me recita qualcosa che la fisica non ha ancora scoperto, e che se continua così in questa direzione non scoprirà, perché non riguarda quello 0,001, diciamo, misurabile, ma l'immisurabile, o come direbbero i mistici, l'incommensurabile. L'essere misterioso oltre le forme. Non sto affermando che è così, perché io non credo neanche nelle persone che danno cose, oggi tanti si mettono lì e danno mille risposte affermando che è così. Quando io vedo questo so già che sbagliano. Socrate, nell'Atene di 2500 anni fa, diceva che le domande rendono profondo l'animo, non le risposte. E non era vero solo ad Atene, 2500 anni fa, è vero anche oggi. Se lo togliamo dai libri di filosofia, e lo rendiamo uno strumento pratico, vediamo che è la domanda più importante della risposta stessa. Mi segui? Quindi io, con grande amore per Socrate, per la filosofia antica, per la fisica moderna, sto ponendomi semplicemente delle domande e me le sto ponendo a un microfono, rompendovi le scatole. Ok? Sono quattro righe. Ciò che non può essere visto con gli occhi, ma per cui gli occhi possono vedere. Sappi che solo quello è Brahman. E non quello che la gente qui adora. È in un tempio, no? Ciò che non può essere ascoltato con le orecchie, ma per cui le orecchie possono ascoltare. Sappi che quello solamente è Brahman, lo spirito, e non quello che la gente qui adora. Ciò che non può essere pensato con la mente, ma per cui la mente può pensare. Sappi che quello solamente è Brahman, lo spirito, o non quello che la gente qui adora. Queste antiche scritture, spero di non farvi addormentare, parlano di una coscienza senza forma. Quando invece la fisica, e oggi secondo me tanti cosiddetti spiritualisti, danno sempre troppa importanza alla forma. Che cos'è questa non forma che forma il 99,99% della sedia sulla quale sedete, e del sedere che ci sia da sopra. La fisica non ce lo può dire, perché è vuoto. Ma non è il vuoto della fisica. Dove c'è tanta aria, e io la tolgo quasi tutta, si chiama vuoto spinto, e ci sono poche molecole di aria. È proprio assenza totale di qualsiasi cosa, non c'è neanche un granellino di polvere, ovviamente. Sembro scemo, no? Ma cerco di spiegare in modo più semplice possibile. Ora faccio un altro esempio. Già che mi piace parlare la mente intuitiva, salto da una cosa all'altra, è tipico del mio modo, perché a me anche piacevano i professori quando ero ragazzo che insegnavano così. Ok? Se una notte usciamo su questa spiaggia bellissima, guardiamo il cielo stellato. Mi colpì molto una volta sentire Cartolle, questo maestro che amo molto, che ne parlava. E mi riparlerò in maniera un po' diversa, perché voglio incarnarlo nella cosa che stiamo vedendo. Se andiamo la notte in spiaggia, ci sdraiamo e in silenzio guardiamo le stelle, vedrete galassie, meteore, pianeti, stelle, luci meravigliose. E se quietate un po' la mente, azzitti del telefono, scendete in uno stato in cui il cuore batte più lentamente, vedrete quanto tutto questo è bello. Però c'è qualcosa che non vedete direttamente, ed è il vuoto tra le stelle. Tu il vuoto tra le stelle non lo vedi, ma lo intuisci, ma non lo puoi vedere, perché io vedo solo il microfono. Se io guardo il cielo stellato io non vedo il vuoto, eppure vedo le stelle che sono una piccolissima parte rispetto al vuoto che vedo. Mi seguite? Ma quel vuoto che cos'è? Voi direte, aspetta io lo so, si studia alle scuole elementari, è lo spazio. Ti stupirà sapere che lo spazio non è un ente fisico. Che cos'è lo spazio? Lo spazio può essere definito come l'assenza di qualcosa, non come qualcosa. O no? Quindi noi stiamo vedendo qualcosa che non può essere visto, ma lo stiamo intuendo. Mi permetti di fare un piccolo salto se non ti annoio? Che cosa vuol dire conoscere se stessi? Se io posso vedere solo le stelle e gli elettroni, quando io vedo le mie emozioni, i miei pensieri, io sto vedendo solo quello che io ho? O sto vedendo quello che io sono? Vedete, ogni tanto mi scrive una mail o un fisico, anch'io sono un fisico, come ti permetti di paragonare queste cose? Io trovo che farsi domande sia buono. E mi permetto di saltare, questa è stata la mia crisi personale, abbastanza risolta, non ho se ti dare mozzico sulla spalla se non avessi risolta, tra la fisica e la spiritualità. Cioè unire in un cammino personale delle cose che sento profondamente legate, anche se vai da un fisico e parli di queste cose, uno che fa il fisico e ti guarda male. E se vai da uno spiritualista quasi mai ti guarda male, perché ha più a che fare con le tue emozioni, con i tuoi pensieri, ti dirà che devi superare delle certe emozioni, devi avere dei pensieri migliori. Non vi offendete, bla bla bla. Ma perché non viene mai posto l'enfasi sul fatto che questo è qualcosa che io ho? Ho delle idee, ho delle emozioni. Ma chi sono io? Voi saprete la storia, io da ragazza amavo tantissimo Tony De Mello, no? E Tony De Mello fa questo esempio, è estremamente semplice, no? Dice quando voi dite una persona chi siete non potete dirglielo, perché sono un ingegnere, sono una casalinga, sono una mamma, sono un papà, questo è quello che tu fai. No? In realtà noi non possiamo dire niente su ciò che noi siamo. Sono biondo. No, hai dei capelli biondi. No? Mi segui? Sono fornaio? No, vuol dire che guadagni il tuo pane quotidiano, proprio letteralmente, facendo il pane. Ma chi sei tu? Ecco, vedete, perché vi torturo con sta cosa un po' strana? Perché a mio avviso oggi, nel cosiddetto bla bla spirituale, si è perso il mistero, il contatto con l'intuizione. Quindi il mio discorso forse un po' scarcinato, sgangherato, vuole invece riportare l'attenzione sul fatto che certe cose non possono essere capite e non bisogna neanche parlarci troppo, possono solo essere intuite. E se stai capendo, gioco di parole, capirai perché porto così tanto l'enfasi sull'intuizione, perché delle cose non le capirai mai, non le capiremo mai. E a volte quando ti arrendi a questo inizi a intuire. Vi ricordate Sant'Agostino? Non voglio parlare da sacerdote, vi ricordate Sant'Agostino si illuminò quando vide un bambino che cercava di mettere l'oceano in un secchiello. E secondo me con un salto tipico del genio, genio, legge, intuizione, capì che lui stava cercando di capire Dio e che era impossibile. Capite? Eppure non ci disse Sant'Agostino, non può essere capito, lasciamo perde. Di che cosa parlava? Vedete, non parlo solo dei mistici indiani, tibetani, eccetera, ma mistico anche cattolico e apostolico, no? Del fatto che Dio può solo essere intuito e amato, ma non capito. Com'è possibile che questo discorso così sgangherato, teologico, un po' strano, che neanche mi piace troppo, abbia a che fare con una cosa estremamente pratica, l'atomo? Secondo me lo puoi intuire, e cioè del fatto che la gran parte, il 99,99% del tuo culo sulla sedia, non è conoscibile, non è misurabile, perché è un misterioso vuoto che non sappiamo neanche che cos'è, perché lo spazio non è definito. Allora, quando ero molto giovane mi piaceva guardare i colori delle persone, i colori che emanavano dalle persone, e non mi prendete per un critico polemico, che cosa mi piaceva tantissimo vedere? Che spesso le persone che parlavano di pace, di meditazione, mi ricordo una volta beccai un Hare Krishna, no? Hare Krishna così, tutto vestito da Hare Krishna così, emanava fango, tensioni, paure. Ma allora, ma tutte queste chiacchiere? Vedendo le Aure, lasciando perdere lo stupire la gente, cercando di indovinare, dire loro che cosa stavano pensando, che non serviva altro che avere successo, cercare l'attenzione degli altri, ed era una forma di vampirismo energetico, non serviva un granché, ci mancava un turbante in testa, andava a teleluvo a fare telefonate, che cosa? Non serve questo, no? Cioè, l'intuizione è molto di più. Ma che cosa intui, cari amici? Qualcosa che oggi mi permetto di essere un pochino critico, ma lo faccio in senso antico della filosofia greca, la critica è una cosa bella, serve a capire meglio le cose, non è la polemica stupida. Ok? Gli antichi filosofi, se vi piace Plotino, Platone, Socrate, amavano la critica, intendendo critica come quella cosa che tra me e te ci capiva meglio di capire le cose. Oggi noi per critica intendiamo polemica, io intendo la critica costruttiva. Ok? Ok, questo viene da una bellissima autrice che è Brennan, Mani di Luce, no? Anche Emerging Light, per chi l'ha letto in inglese, cioè luce emergente, ok? La Brennan è una grandissima chiaroveggente, vede molto fortemente le aure, molto più di quanto le vedessi io, le vedevo io in passato. Che cosa c'è nell'aura di una persona? La faccio molto breve, io da ragazzo ho fatto pure un modello matematico sull'aura, l'università mi hanno guardato un po' male, però in realtà è molto semplice e non era fatto neanche molto bene, però che cosa, adesso lo faccio breve, che cosa c'è nell'aura di una persona, cari amici? C'è i suoi pensieri, le sue emozioni, cioè le correnti elettriche del suo circuito nervoso, ok? Ci sono pure le sue paure, le sue frustrazioni, il suo non sentirsi degno delle cose, il suo avere paura per suo figlio, tutte cose umane, cari amici, che oggi troppo spesso vogliamo reprimere all'insegna della spiritualità, no? Bene, tu sei molto più la tua aura che le tue parole. Io continuo a dire pace, però emano paura. Quale delle due è più vera? La tua emanazione. Quale delle due agisce sulla legge dell'attrazione? La tua emanazione. E scusate se lo dico, c'è gente che continua a dire ripeti mille volte al giorno pace, no? È una presa in giro, è molto più importante toccare la pace e emanarla. Quale delle due è più difficile? Ripetere la parola pace è facile, no? Toccare la pace dentro di me richiederà una grande trasformazione su di te, un lavoro vero, non un bla bla bla. Non è esteriore, è interiore, ma è sempre un bla bla bla. I mantra non sono questo. Nella Bhagavad Gita il mantra, Krishna lo presenta da Arjuna, mica così. Non è ripetere una cosa perché alla fine ci azzecchi. Ha scritto un autore di libri, come ti permetti? Ho detto, guarda, semplicemente ho detto la mia. Non funziona. La meditazione è un'altra cosa. Non è chiudere gli occhi e ripetere una cosa finché si realizza. Perché se io ripeto pace e emano cacca, io attiro quello. Passo in più. Figo, ma allora che devo fare? Tu lo sai. E qui chiudo il cerchio. Sviluppare l'intuizione. E la tua intuizione sarà unica. Non sarà la mia che può essere data a te. Cioè la tua intuizione ti renderà, la tua unicità la permetterà di venire a galla. La tua creatività. Magari io posso essere creativo nel chiacchierare e tu puoi essere creativo nel fare crostate. Tu puoi essere creativo nel modo in cui giochi a golf e lei è il modo in cui va a vela. Non lo so, dico per dire. Tuttavia che cosa ci accomunerà? Che per essere intuitivo devo avere un contatto profondo con me stesso. Non ripeto una parola nella testa. Infatti l'intuizione non c'è senza consapevolezza. Magnifico. Esattamente. Quindi vedete, io nel mio percorso, guido adesso da anni, misteriosamente perché non pensavo che avremmo fatto questo nella vita, dei gruppi di meditazione. Spesso vorrei portare l'attenzione al fatto che i grandi maestri, il Buddha, Ramana Maharshi, il Cristo, Nisargadatta, un maestro che amo tantissimo, Krishnamurti, hanno sempre parlato non di convincerti in qualcosa né di ripetere qualcosa, ma di prendere coscienza di. Quando io osservo l'atomo, abbiamo visto, posso vedere solo il nucleo e gli elettroni, ma non il vuoto che c'è dentro. Mi seguite in questo. Quando io guardo il cielo posso vedere le stelle brillanti e tramite loro intuire il vuoto che c'è in mezzo, ma non posso guardarlo direttamente. Mi seguite? È possibile che quando guardo dentro me stesso i miei pensieri, le mie emozioni, non siano altro che atomi e stelle, ma che la mia essenza non sia nei pensieri e nelle emozioni. E che non si tratta di avere pensieri più carini, più spirituali, no, la spiritualità è proprio un'altra cosa. Avere pensieri più chiarini si chiama moralismo ed è buono. Conoscere te stesso è un'altra cosa. Bene, che c'entra questo col qui ed ora? Io lo so che cos'è il qui ed ora, l'altra volta ho sentito una persona, io ho un karma strano, ho sentito una persona, si vive un'olta sora, qui ed ora, fai quello che vuoi fare, bello, figo, molto new age, una cazzata terribile. Perché il qui ed ora non è questo. Che ci vuole? Qui ed ora faccio quello che voglio fare, io sono libero, guarda che per essere libero dovrai fare un profondo lavoro su te stesso. Non sei libero perché tu vuoi comprare quella cosa e te la compri. Essere libero è molto più difficile cari amici, se non fai un lavoro profondo, trascendentale, veramente duro, senza scorciatoie, non lo sarai mai libero. Qui ed ora. Cari amici, permettetemi di spiegare un pochino a parole mie gli insegnamenti del Buddha sul qui ed ora. Il qui ed ora, secondo gli insegnamenti del Buddha, è la percezione del contenitore del tempo senza tempo. Questo è il Buddha che chiamava supercazzola. Sto scherzando, la spiego meglio. Mi piace molto ridere, vedete, io penso che possiamo crescere con leggerezza, ma non essendo dei buffoni, ma con leggerezza. Le persone serie spesso rimangono molto in superficie. È possibile che il qui ed ora non sia questo tempo, ma l'assenza di tempo. Non so spiegarla meglio, lo dico così. Spostarsi dal vino alla bottiglia. Che cosa sto dicendo? In realtà il vuoto che vediamo nel nero del cielo la notte è qualcosa che permette alle stelle, al pieno delle stelle, di esistere. Ma non è le stelle. Lo dico così, più da fisico. È una potenzialità che permette a ogni cosa di essere ciò che è. Ok? Il Buddha, parlando della presenza, non ha parlato del questo momento, ma del fatto che il momento è senza tempo. Per intuire questo, con un lavoro profondo. E non è qui ed ora sta cosa me la compro. Capito? Una scusa per una mosceria interiore o per permetterti qualsiasi cosa. Voglio ripetere che la libertà viene conquistata, quella vera, quella interiore, non quella del bla 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 spirituale, solo con un profondo, umile, profondo, lavoro su se stessi, silenzioso, che non chiacchiera, ma che profondamente emana. Ma questo cambierà, senza mettere le bombe, senza le molotov, che abbiamo già visto negli anni settanta non funzionare, e sarà, come la chiama Krishnamurti, una rivoluzione silenziosa. Emanare profondamente la mia realizzazione senza per forza doverne parlare con il microfono in mano. Sono sicuro che apprezzerete questa storia, ed è di un maestro che amo molto, che è stato molto umile nella vita, e che è il Mahatma Gandhi. Lui non amava essere chiamato Mahatma, vuol dire grande anima, però dopo morto è stato chiamato così, ma in vita non amava essere chiamato così, perché era estremamente umile, non saliva in cattedra. Una mamma, con un figlio malato di diabete, andò dal Mahatma, andò da Gandhi, e gli disse, ho portato questo ragazzo da diversi medici, ma nessuno riesce a fare niente. Può, lei, maestro, che è una grande anima, fare qualcosa per mio figlio, può dirli di smettere di mangiare caramelle? La risposta è bellissima, e Gandhi dice, certamente, me lo riporti tra tre settimane. Voi sapete questo, e quando dopo tre settimane la mamma va lì, Gandhi si inginocchia davanti al bambino, io immagino l'amorevolezza con cui l'ha fatto, prende con le mani le spalle del bambino, guardandolo negli occhi, e gli dice, smetti di mangiare caramelle, ti faranno solo male. Al che la mamma dice, ma Matt, ma perché non gliel'ha detto tre settimane fa? E lui dice, questa cosa è meravigliosa, perché io tre settimane fa mangiavo caramelle. Lo vedi la grandezza che c'è dietro? Pace, pace, pace. Non mangiare caramelle e io le mangio. Emanazione. Gandhi ha fatto tre settimane senza mangiare zucchero, nessun tipo di zucchero, e allora ha detto semplicemente a quel ragazzo non mangiare caramelle. Non gliel'ha ripetuto mille volte come mantra, non mangiare caramelle, non mangiare caramelle, no. Io sto parlando, cari amici, della vera spiritualità, tu ti direi, ma come ti permetti? A me è stata insegnata una cosa preziosa e ho il dovere di trasmetterla, non me la voglio tirare. Ho solo coscienza di quanto tutto questo sia estremamente vero. Gandhi ha semplicemente detto non mangiare caramelle, ma prima l'ha attuato dentro si stesso e quindi l'ha emanato come conseguenza. Mi segui? Il lavoro che ho avuto l'onore di ricevere da parte di questi due grandi maestri e anche da parte di altri grandi maestri. E quello che offro è un lavoro su ciò che emaniamo. Un lavoro duro, lungo, profondo. Ma mi permetto di dire che non è nel bla bla bla. Mi segui? Ho parlato di qualcosa che non può essere spiegato e ho parlato di qualcosa che... Alla fine ho parlato di qualcosa che non posso dire, ma che sto prendendo in giro? Bla bla bla. Perché? Perché dell'intuizione non si può dire niente. Però a me è stato insegnato che può essere svegliata, sviluppata, potenziata, amorevolmente disciplinata a crescere. Quando vedo che io non sono il mio passato, non è importante fingere davvero un altro passato o cercare di dimenticare il passato. Cade da sé. Quando vedo che non sono la mia storia, che il mio passato è il contenuto di qualcosa, ma il contenitore è qualcosa di trascendentale. Allora uso questo termine, forse questo i mistici intendevano per bruciare karma. Non qualcosa che devi veramente bruciare, ma qualcosa che realizzi non essere te. Non è tuo. Non c'è un combattimento contro qualcosa, sostituirlo con qualcos'altro. C'è semplicemente vedere che tu sei qualcosa di completamente diverso. Vedere questo, primo, non è spiegabile. Secondo, ha un valore immenso. Perché non ti può essere dato. Il Buddha indica la luna e dice posso solo indicare la luna. Solo un dito che punta alla luna. Ed è bellissimo. Queste sono le tavole zen. Sono dieci, sono dei dipinti meravigliosi e partono da un contadino confuso, alla testa da una parte e il corpo dall'altra, fino a un contadino che arriva all'illuminazione, cavalcare il toro, fino a un contadino che trascende l'illuminazione stessa. E le ultime due tavole aggiunte dallo zen torna al mercato. Torna alla vita quotidiana. Fare qualsiasi cosa facesse non fugge più dalla vita, ma non è più la persona di prima. E queste semplici tavole vedremo che hanno a che fare con le nostre paure, le nostre difficoltà, tutto ciò che dobbiamo lasciare andare, con un lavoro semplice ma estremamente profondo, che tocca le paure, anche il modo in cui respiriamo, soprattutto nelle prime, ovvero per risvegliare un'energia che ci aiuterà ad andare oltre. E chiudo con questa cosa bellissima di un ideogramma. Io sono stato di forze volte in Cina a fare Kung Fu in delle scuole, in dei templi, in dei posti bellissimi, con dei maestri meravigliosi. Queste pratiche di Kung Fu intese come via iniziatica, non te gonfio dei botte, ti ammazzo dei botte, eccetera. E mi colpì vedere che l'ideogramma del Buddha sono due ideogrammi. E così una persona mi disse una cosa bellissima. Io, se lo dico in italiano, Buddha è una parola. In Cina invece sono due ideogrammi. E sapete perché? Un ideogramma vuol dire uomo, l'altro vuol dire no. Io non so spiegarmi bene, se mi spiegassi meglio ti stupiresti. Le mie parole sono limitate, la mia capacità di insegnare non è eccelsa. Perché il Buddha vuol dire uomo no? Aspetta, lo so, perché il Buddha nega l'uomo? No. È solo un ideogramma? No. Lo dico così. È possibile che quando vediamo l'atomo vediamo solo il nucleo e gli elettroni e non quello che la materia non è? È possibile che quando vediamo il cielo vediamo le stelle, non il vuoto tra le stelle? È possibile che la parola l'ideogramma antico cinese vuol dire Buddha, vuol dire uomo? No. Ha a che fare con tutto ciò che l'uomo non è, nel senso che ha, ha emozioni, ha pensieri. E ha invece a che fare con quello spazio vuoto tra le emozioni, tra i pensieri. È che noi ci illudiamo di raggiungere la buddità con pensieri belli, con emozioni profonde. Mi seguite? Se lo trovate offensivo vi chiedo scusa. Ma questa è a mio avviso la via mistica, tagliata su misura per un'epoca moderna in cui usiamo anche la fisica moderna per intuire delle cose. Le ultime tavole, dal cerchio vuoto in poi, hanno a che fare con la parola uomo? No. Infatti non c'è più neanche l'uomo. C'è la fine, ma sono in due e vedremo che non è né uno né l'altro ma entrambi. Quello spazio di coscienza che non è la tua coscienza, ma è una coscienza nella quale noi siamo immersi e viviamo. Da cui il simbolo pesce dei cristiani dell'origine. Sapete che uno dei simboli dei cristiani dell'origine era un pesce? Perché indicava il fatto che anche se non lo sappiamo noi nuotiamo nella verità come il pesce nuota nell'acqua. Non è bellissimo? Tutto questo non può essere capito, ma può essere intuito. E quando intuisci una cosa non è qualcosa che hai, è qualcosa che sei, non ti può essere tolto. Un'opinione ti può essere cambiata. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. Grazie Pier Giorgio.